Una persona con infezione d'HIV è esattamente come le altre, con i suoi sogni, la voglia di condividere le gioie e le passioni con gli amici, il diritto di vivere una vita piena. Affronta ora il problema dell'HIV con una corretta informazione. Scoprirai che togliergli la maschera è il vero modo per farla star bene. L'infezione d'HIV non si trasmette con le normali attività della vita quotidiana. Non discriminiamo le persone HIV positive.